Il soccorso è un tema che mi sta particolarmente a cuore, soprattutto per la nostra regione, perché credo sia una delle poche regioni che non abbia la possibilità di un soccorso in elicottero. Può succedere di effettuare un soccorso a Lecce o a Brindisi e quindi centralizzare i pazienti a Bari, come lo facciamo? Lo facciamo con le auto mediche o con l'ambulanza. Adesso invece abbiamo la possibilità in pochi minuti con l'elicottero di centralizzare il paziente, quindi il tempo sappiamo è vita, quindi l'elicottero, l'elisoccorso lo ritengo un mezzo fondamentale per la sanità, così come l'utilizzo di nuovissime tecnologie come possono essere i droni oppure la rete 5G che ci permette di definire il percorso migliore per le ambulanze o il massaggiatore automatico. Comunque l'ecografia wireless che tramite un ecografo portatile possiamo fare diagnosi sul territorio, quindi le tecnologie sono tantissime che possono supportare il medico nella migliore e corretta cura e terapia.